Ciao a tutti e benvenuti nel terzo episodio di Giorni di Scuola. Io sono Emilio Palmerini e sarò il vostro narratore per questo podcast. E con me c'è Giada Taribelli. Ciao, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Che gioca Ghirian. Davide Mistrello. Buongiorno, buonasera, buonanotte. Ben ritrovati. Ben ritrovati. Fa molto show italiano. Che gioca Rogar. E Marco Mallia. Ciao, semplice, ciao. Ciao. Che gioca Zaffiro ed è il nostro ospite speciale per questa stagione. Dove eravamo rimasti con la storia? Ghirian, Rogar e Zaffiro si sono infiltrati nella scuola di magia e stregoneria di Strix 7, la scuola più famosa del multiverso, dove devono difendere slash spezzare il cuore a una delle studentesse, la Rin Arnesa, perché è parte dell'accordo che hanno avuto con questo Vistano per riportare Ghirian nella sua forma normale. Hanno scoperto però che la minaccia che incombe su la Rin è seria. Il figlio di un lich, Grayson, un altro studente di questa scuola, vuole ucciderla per riprendersi in una logica contorta e tutta sua, l'amore di Aurora, questa giovane vampira che era la sua promessa sposa e che si è innamorata di la Rin. I nostri eroi hanno salvato la Rin da probabilmente uno di questi tentativi di farla fuori o almeno di farla espellere dalla scuola e hanno conosciuto il preside del collegio in cui la Rin studia. Grazie al preside e alle informazioni di la Rin potete partecipare, potranno partecipare, alle lezioni dei prossimi giorni per tenere al sicuro la giovane Vistana. Ma in una scena, come dire, bollente, no, non è vero, Zaffiro e la Rin sono andate a lavarsi dopo il combattimento che hanno avuto e così via e siamo rimasti che in mezzo al vapore si è aperta la porta e qualcun altro o qualcun'altra sta entrando nel bagno. Ma ora, sigla. Dun, dun! Dun, 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 dun... Ha, ha, ha. Grazie a tutti. 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 Ok, siamo lì. Grazie a tutti. 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 Guardo la rin e gli dico... Dai, solo per questa volta. qualche risata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 5. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, no, no. All'arco. Grazie a tutti. 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 Vedete? Grazie a tutti. 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 tutti calmi. Grazie a tutti. 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 perché vuoi? Grazie a tutti. 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 Festival. Grazie a tutti. 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 Dam si avvicini. A caso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.